Io, sinceramente, ho invitato la Sessione di Onicea a non replicare, insomma, nel Consigliere comunale per destinare un regolare uomo nel svolgimento di lavori, anche perché credo fermamente nel letto di istituto tra chi fa parte della giunta e chi fa parte del Consigliere e credo fermamente che se l'esecutivo trova questa denominazione, è proprio il problema del fatto che l'esecutivo deve semplicemente fidanzare e dare seduzione a quelle che sono le volontà della politica espresse dal Consigliere. Quello che credo che non faccia bene è questa maggioranza, questi motivi e tanti del Consigliere tra un buon ente che lo esecutivo e un'altra. E' chiaramente che le volevano cercare di avere il rispetto delle situazioni, ma in quanto si avranno le proprietà, ne vanno in interesse tutti uguali se fanno bene. Volevo sicuramente specificare che questo regno avvento la proposta del Consiglio Comunale forse in maniera più compiuta, perché secondo me non sono stato mal compreso. Al di là del fatto che la nuova della Presidenza delle Forzioni dell'Internet, del Ministero dell'Internet, del Ministro dell'Internet, a poche ore, è un altro ufficiale, quindi noi guariamo in Europa di 60 giorni da giugno, ma non è questo modo che importa. Io evitavo i consiglieri comunali partolari dell'Internet, ma ce l'hanno stati presso e ce l'hanno invito, senza rinuntare troppo, se vanno, e io torno a dire che le mie abilità parlo, assumo sempre più i toni della impidità, che c'è giunto una nota della Repertura che rappresenta un ordine per le amministrazioni comunali, che rappresenta, in una presa di disponibilità, di incidere sui livelli della tassa sui rifiuti soldi urbani. In virtù di questo dato e in virtù del mancato completamento dei lavori in commissione e bilancio, ed essendo cittadentristiche necessarie, tancite oggi dal Ministro degli Interni e quindi dell'approvazione del previsionario, non capisco perché stiamo dalle dieci e mezza a continuare a parte del documento di previsione che probabilmente può essere rinviato, sperando di poter approvare i tempi iscritti. Io non condivido il giudizio negativo che mi ha dato il bilancio di previsione che sta in Italia, perché è un bilancio di previsione che per grossi linee, tra l'altro, ricarica quello che ci è stato sottoposto all'altro della trovazione del previsionario del 2009, però, essendo stato entrambe le annate Presidente della Commissione e del bilancio, credo di avere una certa prontenza per cui, ecco, credo che quello del giudizio sia un po' incontestabile da parte degli anni per lui. Grosso modo, si è dato seguito a quello che è un bilancio dell'anno passato, sul quale abbiamo potuto incidere tantissimo, essendoci stato un miglioramento che ha caratterizzato due terzi dell'anno diminuito. Ora è chiaro che quello che è indicato nel bilancio di previsione non è detto che sia legge e non è detto che chi l'anno scorso aveva una visione della politica su determinati individui di diritto non possa nel corso del tempo modificabile, dei processi eccetera che cambia l'articolo, pesa l'altra, non glielo pervede un determinato diventamento, non si è riconosciuto, non possa avvedersi, non possa rendere posizioni diverse e in questo motivo tutti, l'assessore compreso, a dare della solida disponibilità che egli ha sempre dato che non viene con l'inunque Stato e questi inutili parti vecchi e nazionali del Consiglio comunale modificano l'intero consiglio che soprattutto modificano la maggioranza del governo e già perché da domani inizierà un'opera di lavoro, di restare, se vogliamo definire, se lo vogliamo chiamare così, di un bilancio di previsione che grossomodo va bene così come e di un bilancio di previsione che ha avuto l'approvazione però è normale che c'è la disponibilità e la volontà di ICI a portare qualche progettivo dove è possibile ma senza cadere insomma queste inutili polemiche che non fanno bene a questa maggioranza perché invito gli assessori per fare gli assessori e consiglio, casamente, il maggiore rispetto signorazionale di chi riporto delle carri d'assessore. Detto questo, caro Presidente Mocea e carico di consigliere, io realmente credo che oggi continuare a parlare di un previsionale che non possiamo approvare sia un po' prenderci lino perché di fatto questo bilancio di previsione noi non lo possiamo approvare e non soltanto perché non è passato in commissione del bilancio ma perché c'è una nota che ci ha obligato a portare le politiche sostanziali che potrebbero incidere anche su altre voci di bilancio e poi di fatto il bilancio dovrà anche ritornare in giunta prima che ritornare nel consiglio comunale per le dovute politiche. è normale che questi giochi che ci saranno dallo sindaco e in questo politico e pieno come dice il protega di sinistra critica dovranno anche servire, mi accorgo l'appello, oggettivamente di una qualche difficoltà continua e tra l'altro parli mando una cosa buona alla città per i consigli comunali di sinistra e per le dovute politiche cerchiamo di accogliere, di essere sensibili alle esigenze di ciascun consigliere comunale ma su questo vediamo il consigliere il consiglio comunale ecco detto questo però dice bene il protega di sinistra critica quando ci invita a capire se realmente noi abbiamo ancora la capacità e la volontà di governare la città e questo è il divano, secondo me serviranno a provare la quale? non la quaglia non la quaglia mi dice quaglia il mio amico può essere guaglia però bisogna realmente trovarla e bisogna realmente capire se questa amministrazione e io sono unito se la risposta sia alternativa possa continuare in maniera unita al proprio percorso di istituzione per cui io vi do anche i colleghi dell'opposizione più concretetiche trovo chiaramente con volontà che ciascuno fa la propria parte per questo consiglio comunale però rendersi conto che forse sarebbe più opportuno consentire a questa maggioranza di poter portare questo dipendio verificando se quello che io ho detto più volte in questo doppio infermente che ho fatto sia stato ricevuto non ci proviamo soltanto di fronte a un problema politico di quello che non è fatto noi sappiamo che in questo momento c'è l'ennesima crisi all'interno dell'amministra e sappiamo che dobbiamo lavorare nelle prossime settimane per trovare le mesi alla giusta soluzione ma c'è un problema di natura tecnica questa mattina che noi non possiamo risolvere in questa posizione il bilancio comunale non possiamo approvare per cui io invito che vorrei dire la presenza a votare la proposta del dipendio e soprattutto il video che vorrei anche le competenze a tutto comprendendo una loro logistica posizione a darci la possibilità di verificare se ci sono le condizioni per votare questo dipendio ma non evitare di andare nei minuti che lo seguo che probabilmente un esito che abbia avviso a questo punto che sono un intervento per farlo a fare sanitario almeno un altro per la presenza grazie a voi grazie a voi grazie a voi